benvenuti sul nostro canale stelline vediamo qual è il regalo speriamo sia qualcosa di bello che bello è rosa 1 2 3 o uno di quei gattini cinesi o giapponesi o coreani che con la che si muove la zampa molto estetic iscrivetevi al canale e lasciate like buona visione ragazzi ci siete la colazione pronta sì eccoci eccoci sono stra felice oggi finalmente c'è il gender reveal o sì non vedo l'ora di sapere se sarà maschio o femmina o sì anch'io non volevo l'ora di sapere che regalo comprare al mio nipote o la mia nipotina sì anch'io sono felice di farvi sapere finalmente cosa nascerà sì sì però adesso non perdete tempo fate colazione che poi dovete andare a scuola sì ovvio dopo a scuola oh sì ho visto questa cosa di shane però non mi fido molto ma io ci proverei dai ci sono 300 euro in paglio ma dai è una fregatura davvero ci credete allora avete visto i risultati sì davvero scioccanti però sono felice che abbia vinto la squadra vincente sì infatti ciao ragazzi oh danny argentina buongiorno finalmente oggi ve la siete presa comoda eh sì un po anche colpa dei nostri genitori che erano emozionati per il gender reveal oh sì finalmente è arrivato quel giorno non vedo l'ora che sia oggi pomeriggio sì e spero vivamente che sia quello che voglio io tu cosa vuoi maschio o femmina ancora non te lo dico lo sveleremo tutti oggi pomeriggio ok vuoi fare la suspense è già sì anch'io non vedo sia oggi voglio vedere le vostre facce quando lo scoprirete ok o comunque di cosa stavate parlando o noi parlavamo di quella cosa di shane voi invece cosa parlate nel pomeriggio su dai adesso abbiamo mangiato abbiamo parlato abbiamo fatto tutto dai rivelatelo un attimo un attimo allora voglio vedere un attimo come vi siete disposti ok per il team femmina cioè il mio perché voglio la femmina abbiamo anna carola sarà blair viola e mamma ok ok per il team maschio invece abbiamo bea giulia samantha mark danny e mio padre ok di samantha non me lo immaginavo sinceramente ero indeciso detto chissà samantha cosa vuole ma sì dai un maschio ci sono già tante femmine poi io adoro il blu e quindi ci è ci sta maschio poi anche la femmina indossa il blu come vedete io però dai maschietto ci sta sì anch'io voglio un maschio che così veda poi le partite con me perché qui a danny non interessano o è che c'è il calcio non interessa a tutti sì anche questo è vero dai rivelatelo dai rivelatelo fai che sia femmina fai che sia femmina maschio 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 ok vabbè è molto semplice se c'è il fumo azzurro e maschio e se c'ero e rosa e femmina sì dai lo sappiamo sparate felice 3 2 1 o femminau iuppi sì che bello è quello che volevo sì sono felice sì che fortuna una volta nella vita sì sì un'altra femmina in casa oh madonna che gol può riciclare le tue barbi Oh, uffa, volevo un maschio Ah, dai Uffa, guarderò ancora le partite da solo Vabbè, a me non è che importa tanto, basta che stia bene Ci sta una femmina, dai Oh, quindi adesso li comprerò tutti i vestiti di rosa E io li comprerò il ciuccio Io i pannolini, perché sono esperta in queste cose Io invece tutti i giochini Io ho gli elastici per i capelli e pinzette Beh, quello mi sa che per i capelli bisogna aspettare ancora un po' Sì, vabbè, ma io inizio a comprarglielo E io li comprerò il masticativo per i denti Anche per questo ci vuole ancora un po', ma ok Beh, quindi adesso anche noi dobbiamo comprare cose da femmine Beh, ovvio Comunque adesso, a parte gli scherzi, anche noi siamo felici Che per la bambina, anche se non è maschio Sì, vi auguriamo tanta felicità e che la bambina stia bene Sì, prendetemene bene cura Grazie Oh sì, adesso ti spiegherò un bel po' di cose Come si mette il pannolino Che si sveglierà di notte Come fargli il latte dal biberon Ma fuori avanti comunque Poi come pettinarlo Come mettergli la tutina Cosa fare se sta male Sì, sì, per questo c'è tempo Ma poi io sono capace E no, qualcosa te lo devo spiegare Non hai mai avuto un bambino Neanche fratelli più piccoli di te Degna la tua età, quindi non ti sei mai presa a cura di qualcuno Quindi non lo sai Sì, ok O almeno noi del team femmine Bene stelline, l'episodio finisce qui Ditemi, vi aspettavate che fosse maschio o femmina E volevate maschio o femmina E poi potete suggerire dei nomi nei commenti E anche dei regali Da cosa comprare Suggerire a loro cosa comprarli E non dimenticatevi di iscrivervi al canale Lasciare like al video Attivare la campanella Così vi arrivano le notifiche Di quando pubblichiamo nuovi video Seguire la Camera Girl anche su TikTok e Instagram E ci vediamo al prossimo video Ciao!